Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mayadex e oggi con me ci sono tante persone, tra cui... MissCraft98 Sì, che casino No, rifallo, va, perché... Allora, fai prima tu e poi c'è Con me oggi ci sono... MissCraft98 Ronnyman E' uno invisibile che non risponde, probabilmente Virgola è morto Ma che è, ecco, qua Ecco, mi sono qua Ok Eh, madonna Sì, ed è l'unico con la skin, quindi... Mi vorrei tanto bene Perfetto Boh, andiamo a scavare Ok, va benissimo, mi faccio un altro piccone che il mio è finito C'è una... C'è una Minecraft qua sotto, se vuoi Ehm, ok Devo farmi tanti picconi, sono pronta io Allora, facciamo una cosa Ma che cosa devo scavare in quattro? Boh, io scendo A prescindere Non possiamo neanche dormire in quattro due lati, quindi Avete cibo? Eh, sì Io sì Io sì 57 patate No No Sì, mi sono fatto di legno Grazie Ok, io sono pronta Spacchetti in legno No, le sei, me le sono ripete tutte Siamo mettendo, vieni che ti serviva prima Non so se si serve ancora Tutto non le prende? Ok Ah, le torce Vabbè, noi scendiamo così tranquilli incuranti del video che viene scuro No, ma sì Dai, ma chi se ne frega Allora Vabbè, dai Che figo Io le sto facendo Quest'episodio verrà velocizzato Ovviamente per la maniera Si sentono le campane? Poco No Poco Ma io ogni volta che devo registrare deve esserci qualcosa Ma c'è il TPA per curiosità Sì, c'è il TPA C'è? Ah, ok, perché Sennò è così Aspetti, dove ho la legna? Io sono già tipo 250 km da casa Aspetta, ora mi devi ricordare anche il nome Non scegli Xx, virgola xx Poi No, vabbè, basta che fai il TAB Eh, infatti TAB? RONI 98 97, scusa, man TAB poi E poi vedi il nome No, ma che c***o Oh, le campagne adesso devono suonare, non prima, grazie Oh, che c***o Stavo scavandosi tranquillamente Bravo Grazie Eh, speri, ora ci sono io di qua però Ma se al massimo anche io faccio la talpa, dai Facciamo due talpa, sì So Sì, so qua Sì, so qua Sei un crash di tutti, ragazzi No, no No, no, ok Stai immaginando la pirata assurda Mi stavo preoccupando, dicevo Che c***o è possibile Qua c'è il raduno dei creeper C'è il raduno dei creeper Se volete venire Ah, uno Creeper Creeper Allora Secondo me vuole qualcuno Un oro Creeper, vabbè, grazie È proprio gentile Ma c'è uno spawner? Cioè Io ho messo easy, però Non è valida sta cosa Vedo me hai messo not easy Allora E poi magari la ricambio Poi controllo Ma vero, quando ho chiuso il server Ovviamente gli scale Tra i miei migliori amici Mi vogliono salutare Salve Ok Salutami Eh, già Eh, c'è andato Miglior vita Che peccato Ma intanto loro fanno archivamente Sì, ma chiudi stacco Sì, vabbè, dobbiamo un po' recuperare, eh Perché noi siamo un po' più avanti, forse Eh? Vi siamo un po' più avanti con gli archivament Dovete mettervi a pari Ma sì Ma sì Tu beh, mi sono Non stai prezzando, tranquillo Io no No, tranquillo Tutto a posto Lisce, liscio come l'olio Sì Perfetto Ciao Creeper Adesso è trovando solo ferro, madonna Eh, infatti Ma che di fanno sono? Ah, ma sarebbe l'oltre nienta Ma davvero scendo Altro che talpa È un creeper se non l'hai visto, eh No, no, tranquillo Anche scheletri se non ne visti Vuoi scendere così? Se muoio nella lavaman C'è chi più inventori C'è chi più inventori Ah, buono, perfetto No, vabbè, ma tanto mi tipo prima Non è cheat, ragazzi È normale, regola normativa Sì Ragazzi, io non c'ho il piccolo inverno Ma qua ho trovato oro io Ehm Eh, se vieni qua io lo chiudi la Hm? Se vieni qui ne ho Cinque tipo Eh, aspetta che non devo stare Perché io c'ho la rendering al minimo C'ho un computer del cavolo Ah, vabbè Non dirò mai pure il c'ho Puglis, però la rendering la tengo più Sì, ma il tour è appena comprato da una settimana Quello trovo Eh, beh, virgola anche, quindi No, che da una settimana Dei da un mese, to Eh, più o meno che mi trovo qualche giorno Un mese, neanche Ho trovato oro Perfetto Eh, ho trovato oro La tua alpa, ma non Ho cercato un ferro Ecco ferro, bello, bello, bello Trovate il ferro, che c'ho Allora, come ci mettiamo per la casa? Boh, non vi l'abbiamo offerta Poi voi dovete scegliere Dù, Dio, buono Ok, poi Mi piace costruire, quindi C'è tu che decidi? Allora Eh, Ronnyman No, perché mi sono tipato Ci siete voi Non mi fatti fare Come ti fatti fare? Tu ti fatti fatto io? Eh, adesso Ero già morto Ah, no, ma perché È tutto attaccato Madonna Perché? Perché? Ah, perché scusa Tu mai le Dex lo scrivi tutto Eh, corre Lo scrivi staccato? Eh, l'ho scritto staccato Eh, nel canale è staccato Quindi Davvero? Sì Per quello mi sono confuso Non me ne sono mai accorto Se devo dirlo tu Poi, non me l'hai scelta anche tu Anzi, hai messo bene allora Allora, dove scendere tipo Ma non mi ricordavo io se fossi attaccato Ci farò l'abitudine Perfetto Vabbè, vabbè 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 Perché tanto qua sarà tutto velocizzato quindi Ave minuti, continuo Cioè è minerato velocizzato? Sì Ho fatto, ho stoppato tipo quando ero su E poi ho ricontinato quando ero miniera Ma guarda come va bello liscio quando lo registri Eh, troppo quando non registri Ok, sono tornato Ciao 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 No scherzo adesso sono tornato Allora Ma ciao Trolle Ok, sono già alla bedro Poi mi puoi cercare Bocca al lupo Diamanti No, aspetta, ti do far vedere Diamanti subito Aspetta che arrivo Quando questa è fortuna ragazzi Bravura, fortuna, quanto cosa volete voi Eh, culo Eh, esatto Anche quello Eccomi Sì ma perché sono io Ma dimmi tu Ma dimmi tu Ah, aspetta archivamente che ora ho smato l'archivamente posso farlo Stacca Giratina Sì ma che voglia Eh, scusa mi dice All'interno E' giusto E' giusto E' giusto E' giusto E' giusto E' giusto Oh Quanti Buona No, ma se tu qua vicino a me Ah, pure Io posso Non vedi tu nickname Non la vedo Non neanche io Sai tu farlo? Sai tu farlo? Io con la A zappa di legno Ok Per la case omensia non l'avevo mai fatto praticamente E' lo fatto invece Sì, vabbè, con l'antica Per dopo Paolo può andare in miniera piccoli Inventario pieno Ma porca troia Ma si può Solo lava, beh, ecco Io mi sono tippato perché Tipo sono in mezzo la lava Ah, perfetto Ma guarda Quando scaviamo noi Se non si trova la lava Non siamo felici Dai, ma non morire però Che falle Ferro Tanto ferro Anche livello è qua Bedrock 5 Non viene a salire per i diamanti, eh Ma io l'ho già trovato qua No, anzi io si trovano già al 5 Cioè al 5 si trovano comunque Stanno tra il 7 in giù quindi Hai sempre qual' il 12? Eh, nelle vecchie versioni Dalla 1.6.4 È stato sbagliato Ora Dalla livello fette Ah, figo Ma magari sto anche sperando una cazzata Boh Se abbiamo trovato i diamanti Vuol dire che un po' più non c'è di possibilità Telefono Non si è sentito In teoria si possono trovare anche al 20 Ma raramente magari Sì Ma zio Ma zio Ma zio Io faccio la picca Vi do fare un'altra picca Se mi girano Se mi girano Ci sono più obiettivi in chat che altro Se mi girano Sto episodio Faccio tutto Veloce da 150 Con le vocine Bene, infatti No, io la carico così Vabbè, ogni tanto Qualche cosa carina la faccio Dai Scepa anche Se va, fa, se va Ogni tanto, dai Non sempre, però No, vado, ogni tanto Se fosse bell'estra E faremo una serie solo in miniera Sì Ma è bellissimo fare una serie solo in miniera Oh, perfetto Allora io ti scaviamo E gli altri fanno altri Mi stai già simpatico Ok Mi stai già simpatico Saffirò Oddio Dio Magari qualche episodio fuori Tipo le talpe escono Sì, ogni tanto, dai Sì, ma se vedi me tu Non ci capisci niente Beh, ma sai che va a vedere la scorsa serie Se va a vedere tutti i tuoi che ci sono Sì, ma sto già iniziando Tranquillo, eh Sì, ma io l'altro 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 l'avevo perso Mi sono dovuto killare per tornare su Io mi sono tippata invece Siamo stati intelligente Ti ho detto, perché me l'ho killato Ovvio che ti tippi Ovvio Grande Grande No, 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 ok Mordito 3 Faccio Sucrundo 1G Un'istudente che è poi molto Sفيzare 23, senso Un gattino Programmo La pubblicità occorre per Repubblicità Savusiamo Build Come tutti Come tutti Come giocchi non Giochiamo, non consoles Ma con le torce le metti Non ne ho Dessi posto il mondo rioi la falle la regna il posto qualche pd se volete non è stato molto ero verso il tuo cosiddetto per qualche mangi io ne ho tre stacchi aspetta che arrivo arrivo subito ho avuto per oggi sono in vero diamanti da mettermi l'arcere l'inventario non venava l'ho appena ma gli amanti la vediamo a testa da che vengo aspetta che vengo momenti scavando un po' intorno vedere quanti ce ne sono oggi c'è più ma guarda che cazzo ma oddio ma li sto perdendo pittati l'obiettivo non mi sembra delle torce tigliamenti grazie che palle salva di merda non mi ero io mirale che bello mi troverò ancora un po' aspetta ma sono tornati a monti l'uomo quanti dai ti ne sai il 5 buono foto non è la parte quella per sé che la foto non mi sento quando sono scemo perchè avevo legno per fare piccone foto tutte le forze in un'opinione piccoli non lo so io sono io non so 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 io non erano solo io non so e da 1 anche grazie l'ho preso l'ho preso grazie no niente tranquillo continuiamo di qua mi tra poco mi incontrerò con Ronnie perchè? vedo il nickname oddio ah vero via sto filo del cavolo le due tante una più fortunata dell'altra dai ce la possiamo fare oro io qui il carbone come se non ci posso un domani io non lo prendo perchè mi prendo solo per i diamanti piccone o per la red con oro qualcuno il colo dovrà prendere no? appunto io prendo tutto quindi io sono già pieno io sono andato in mira con l'inventario pieno quindi fai un po' tappo ma io ero arrivata con l'inventario vuoto ragazzi a cantizzare se trovo domande non mi ricordo dal 7 in giù in teoria ma anche dal 12 io ero una più picconi perfetto perfetto mi sono capito dritto così sempre tu vedrai il tunnel e cominciò a scavare ticcare ripresa il piccone no 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 ecco cosa dici moment moment ok finirò anche questo troppo appunto io sto passando nel suo tunnel vediamo quanto bello lungo è ti sei trovato ma fermo bene redstone mi sa che si è cominciato a allagare il server ho dovuto fare due volte la storia ah ecco si ne ho rubato il corridoio allora eh no 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 giro di qua giro di qua no no vai tranquillo si sta un po' lagando adesso ah si redstone eh ok proprio le strade incrociate cioè mi dispiace mi dispiace cioè non so come facciamo uscire dopo però vabbè ti slash kill vedo mi spaccola proprio io trovo solo redstone te lo voglio io sto tronando diamante ferro bravo bravo quello serve sempre diamante eh su poche mi tipo su poche mi tipo io li faccio vedere tutti vai aspetta qui mi sto trovando un cazzo vieni 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 trovo un pa eh qua eh c'ho due stack di redstone uno di ferro due stack io ho tre stack di redstone sei diamanti cinquantadue pezzi di ferro e otto toro bella due io ho 15 io di niente ho uno me li per due mi sbaglio ma se erano tre erano io ero perfetto però noi siamo quattro quindi era meglio quattro ma si tanto mi sa che i piccone si possono fare eh poi ne abbiamo di sopra ma il ma la cazzo bella caverna e che c'è mi sa che ce ne vanno due le demande quello mio che io ce ne sono solo uno non lo so mi sa che ce ne vanno eh si infatti ma si tanto poi a casa non si butto tutto entro la cesta ah ok chi se ne frega ah quindi casa comune eh 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 bobbè inseriti ah si si tanto tanto scemo addio ok ma sai che aveva trovato grazie no vero sono andato un buon giro c'è nel senso facciamo crede separate però i minerali possiamo prendere se ne prende si esatto ma la sua scuole per uniche per i minerali si al massimo c'è la peperlobicicolo attaccata o proprio dietro proprio per il po si si ah bo per ora qui c'è un altro villaggio ah c'è un altro villaggio si ci sono due villaggi uno apparentemente basta che attararsi per due centimetri in mare c'è il villaggio e lì abbiamo trovato i conigli affido però in quel villaggio c'è un villaggio che vogliamo ti da tipo uno smeraldo di 16 grano quant'è? si mi pare di sì no 21 forse ciao creeper qua mi sa che c'è uno spawner di zombie? no è scheretti mi sa nella nether è buono nella bedrock no no è qua orca zozza oddio gli scheretti stanno girati ma non mi vedono no porca zozza salutiamo ciao zomi con la pala dai che fallo un altro picco ho finito no ma non sta laggando allora facciamo così minimo perfetto allora mi sono suicidato ma porca perché ma salve ma salve si sta laggando un poco meglio a me non riusciamo a killarlo c'è anche il creeper altri zombie salve esploda pure ok c'è sentito infatti laggare per esplodere è la cosa più bella del mondo io sto laggando c'è un altro creeper il doppio si c'è un altro creeper giù allora buttiamo in testa roba che non serve niente 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 pazzo 19 minuti chiedo finire dai allora stai chiamato ultima si dai madonna ma si dai ora bella quindi ragazzi dai io per questo episodio ho registrato abbastanza un saluto dalla mail dex e da tutti gli altri server dalla iscrivetevi a tutti i canali i ragazzi nella descrizione si fatti i canali eh vi dovete dare i canali che li poi li mettiamo in descrizione quindi un saluto da mail dex ciao a tutti ragazzi salam ciao Ciao!